La Chiesa ci chiede più offerte deducibili. Nel 92 solo 180.000 persone in Italia hanno risposto all'appello. Perché così pochi? Il sostentamento dei 38.000 sacerdoti impegnati nelle parrocchie dipende in gran parte dalle offerte deducibili. Facciamo crescere la partecipazione. Di molto. Alla tua offerta con il bollettino che trovi in Chiesa o alla posta. È deducibile con la dichiarazione dei redditi. Grazie.